Può parlarci di lei? Sono Pedrini Alessandro, ho 50 anni, sono dipendente della comunità montana Alta Valtellina, ho fatto il sindaco 10 anni dal 2004 al 2014 e il vice sindaco dal 2014 al 2016, sempre in comune di Val di Sotto e ho avuto anche un'esperienza come consigliere comunale di minoranza dal 1995 al 2004, quindi una grande passione per la gestione amministrativa per il comune che mi ha praticamente coinvolto fin da quando ero ragazzo, fin quando ero giovane e mi continua a appassionare. Io sono stato insegnante nell'istituto alberghiero e dal punto di vista amministrativo ho fatto il sindaco al di sotto per 25 anni, dal 1974 all'80 e poi dall'85 al 2004, anni in cui naturalmente si è verificato anche l'evento dell'87 con la frana eccetera eccetera, ricostruzione, ho seguito la ricostruzione, siamo riusciti a portarla a termine e sotto questo profilo ho avuto una notevole soddisfazione perché è stata abbastanza dura. Ci parli della sua lista, da chi è composta e come è nata? Allora la lista è una lista che è nata diversi mesi fa, ha voluto coniugare a quello che era l'esperienza di un gruppo e di un'amministrazione uscente che ha amministrato per diversi anni in passato con un rinnovamento e con tante persone che portano entusiasmo e tante capacità professionali e umane nel nostro interno ed è giustamente molto equilibrata avendo sei persone che hanno esperienza amministrativa nel passato e sei persone che invece sono nuove. Abbiamo quindi tre assessori uscenti che sono Patrizia Nazzari, Filippo Canclini, Gabriella Colturi, tre persone che sono consiglieri comunali uscenti e sono Ugo Rodigari, Raineri Ronni e Angelo Gilardi e poi abbiamo sei persone che sono nuove, che sono molto giovani, che portano tanto entusiasmo e tante capacità al nostro interno e sono Zampatti Sando, Letto Mindy, la Valentina Donagrandi, la nostra piccola del gruppo è solo 19 anni, Romano Pedranzini, poi abbiamo Rizzi Morena, Anzi Giacomo e Massimo Todesco. La lista è nata molto in fretta in quanto in seguito alle note vicende che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale in seguito alle dimissioni del Sindaco Bracchi ci siamo trovati di fronte a una situazione di vuoto naturalmente coperta dalla presenza molto attiva e efficace del commissario di governo che per la verità ha dato notevole soddisfazione alla popolazione tant'è vero che tanti hanno detto ma meglio che rimanga il dottore che almeno siamo tranquilli, siamo tutelati sotto ogni profilo. Poi con l'insoddisfazione che c'era nella popolazione c'era anche la tentazione di non presentare nessuna lista in contrasto con l'amministrazione uscente dimissionaria, dimissionata anzi, non dimissionaria. Poi è prevalza l'idea di predisporre una lista naturalmente con l'obiettivo di vincere le elezioni e si è costituita con una certa rapidità e abbiamo avuto anche abbastanza vita facile nel costituirla e tra l'altro è una lista che comprende tutte le fasce di età. Abbiamo dei giovani molto interessanti molto interessati alla vita pubblica pensavo che non ce ne fossero invece per fortuna c'è ancora sette che è a cuore le esigenze del Paese. Abbiamo anche gente esperta e preparata che ha già fatto parte dalle mie amministrazioni precedenti e per cui siamo partiti nella speranza di ottenere dei risultati positivi. Quali sono le principali problematiche che i cittadini del suo territorio si trovano a dover fronteggiare quotidianamente? Diciamo che innanzitutto il nostro comune, la nostra azione amministrativa sarà comunque indirizzata a garantire e a migliorare quello che è l'offerta turistica nel nostro territorio. Noi siamo un comune a vocazione turistica la maggioranza dell'economia è un volano per noi dal punto di vista turistico abbiamo anche delle grosse aziende non dimentichiamo la Livissima però dobbiamo essere concentrati su questo argomento. Poi vorremmo continuare a garantire anche e migliorare laddove è possibile quei servizi indispensabili dal punto di vista socio assistenziale e dal punto di vista dell'istruzione. Abbiamo un diritto allo studio molto importante per i nostri ragazzi che sono il nostro futuro e poi vogliamo continuare quelle che sono le nostre opere pubbliche che sono state progettate e che sono state anticipate nei mesi passati e soprattutto portare avanti i progetti importanti e strategici sulle aree interne. Un progetto condiviso con i comuni del comprensorio con la comunità montana la provincia di Sondio e la regione Lombardia dei progetti strategici che interessano anche il territorio di Val di Sotto che dovrebbero portare un benessere e uno sviluppo socio-economico legato al turismo e non solo. Credo da questo punto di vista i nostri cittadini potranno valutare sicuramente in segno concreto quello che saranno i progetti che nei prossimi mesi, nei prossimi anni interesseranno il nostro territorio. Le problematiche dei cittadini sono un po' quelle che riscontriamo a livello nazionale. quindi il discorso dell'occupazione i posti di lavoro che diventano carenti oppure sono dei posti di lavoro non particolarmente attraenti poi c'è il discorso anche dei giovani che sono un po' in difficoltà in queste situazioni perché non vedendo la possibilità di inserirsi nella società di avere delle disponibilità di avere un futuro di avere delle garanzie chiaramente si trovano abbastanza disorientati quindi bisogna cercare di operare nella direzione di sostenere perlomeno quelle che sono le attività presenti sul territorio possibilmente di rafforzarle rafforzarle ci riferiamo soprattutto all'aspetto del turismo perché è una zona che vive in prevalenza di turismo abbiamo sì la Levissima che è un'entità molto importante però con le nuove tecnologie i posti di lavoro non è che sono in aumento è difficile creare delle nuove possibilità poi anche l'agricoltura è importante in quanto è un elemento che dà equilibrio al territorio e quindi ci garantisce e ci tutela il territorio è un aspetto molto importante anche qui ha naturalmente adatta incentivazione naturalmente è un compito che forse non compete in assoluto al comune poi con i tempi che viviamo insomma tutti dicono che non ci sono soldi a Roma non ce ne sono di qua non ce ne sono è chiaro che siamo in un momento di difficoltà in che modo ritiene di poter risolvere questi problemi? Beh innanzitutto col confronto quotidiano come io ho sempre fatto come il mio gruppo ha sempre fatto in questi anni quindi confrontandomi giornalmente con i cittadini con i loro problemi con le loro necessità perché il dialogo è la prima cosa importante nell'amministrare il bene comune detto questo sicuramente il Comune va di sotto gode di un buon bilancio questo anche grazie a un'azione amministrativa che abbiamo fatto negli anni passati e quindi indubbiamente questo ci può consentire sicuramente di risolvere le problematiche che noi quotidianamente possiamo trovare sul nostro percorso non dobbiamo dimenticare che dal 2014 Regione Lombardia su richiesta del Comune va di sotto e di altri comuni interessati da sedi di stabilimenti di acqua minerali ha modificato una legge regionale e ha quindi ha garantito ai territori che hanno la sedia di stabilimenti quindi va di sotto in questo caso la levissima un introito importante per la presenza di questi stabilimenti per il nostro bilancio si tratta di circa 800 mila euro all'anno tutti gli anni per investimenti e questo sicuramente è un guardare il futuro in maniera ottimistica e importante per tutti i nostri cittadini ma queste problematiche non è che possiamo risolverle perché non abbiamo la bacchiatina dei miracoli non possiamo promettere delle grandi iniziative bisogna rimanere a piccolo cavotaggio quindi garantire i servizi che ci sono garantire l'efficienza degli interventi la funzionalità degli interventi sul territorio con delle scelte oculate attente in modo di non andare a sprecare del denaro e che questo denaro possa essere reinvestito nelle nostre zone poi dobbiamo sperare che la situazione nazionale e internazionale abbia delle evoluzioni positive perché su certe problematiche purtroppo bisogna guardare anche al di sopra di noi perché impossibile non è facile inventarlo il futuro del suo territorio cosa prevede diciamo che se ci sarà unità di intenti e di vedute con la popolazione come credo che sarà sicuramente io vedo un futuro molto ottimistico per il nostro territorio poi non dobbiamo dimenticare che però la Val di Sotto in un contesto quindi nell'alta Valtellina quindi che deve comunque cercare di ragionare complessivamente in termini turistici in termini di infrastrutture quindi dal nostro punto di vista il futuro sicuramente lo vediamo molto positivo ma non dobbiamo pensare di isolarci di vivere solo il nostro contesto se siamo degli amministratori oculati dobbiamo avere come obiettivo finale il futuro dei nostri figli e quindi dobbiamo essere anche così consapevoli che non viviamo una realtà isolata ma siamo in una realtà importante ma la dobbiamo condividere con i nostri vicini io prevedo un comune che migliora ancora sotto il profilo ambientale è un comune che ha delle caratteristiche molto positive ha delle soluzioni molto varie anche sotto il provilo del paesaggio e queste cose bisogna difenderle quindi evitare assolutamente interventi implosivi sul territorio mi pare che i miei amici della controparte abbiano in progetto una strada che va a spaccare il pendio verso piatta io credo che questa strada non sia un omaggio a quelli che sono i nostri obiettivi oltre i costi che verrebbe a comportare oltre al fatto che l'utilizzo sarebbe abbastanza limitato un appello al pubblico degli elettori semplicemente se gli elettori i nostri concittadini vorranno riconfermarci la fiducia noi possiamo garantire il massimo dell'impegno come abbiamo sempre fatto in questi anni tanto impegno in maniera onesta in maniera trasparente con il massimo dell'incontro e della vicinanza ai cittadini quotidianamente questo è un aspetto che ci sta molto a cuore e sicuramente continueremo sempre a garantire comunque ma io mi auguro e questo l'ho constatato anche parlando con le persone con i nostri cittadini molti mi hanno sollecitato a presentarmi io francamente non avrei mai pensato di presentarmi ancora in in una competizione elettorale anche perché mi piace la tranquillità personale e so che problematiche ci saranno sempre mi auguro di essere di avere il sostegno e di dare soddisfazione a quelli che hanno fiducia in me a che Grazie a tutti.